La raccolta differenziata è certamente una cosa seria, ma in questo lungo processo di educazione alla raccolta differenziata, ad entrare in una nuova dimensione, in una nuova forma mentis e opportuno anche magari qualche momento così di simpatica allegria, magari con delle espressioni dialettali che sono particolarmente penetranti e utili in questo processo di crescita di educazione. Ne parliamo con l'avvocato Giampiero Mancarelli che è presidente del CDA di Chima Ambiente AMIU. Abbiamo accanto a noi una scritta tipicamente dialettale, l'avete sentita tante volte, rivolta a qualcuno, che significherebbe succo di frutta e magari viene detto così a livello di caricatura, con sfottò o anche con rabbia nei confronti di qualcuno che magari è un po' robustello e ha l'immagine, la forma, la sagoma del succo di frutta. Ma considerando la differenziata, la raccolta differenziata, questa espressione è importante perché dopo leggiamo sai poi, sai poi dove va buttato il tetrapack? Te lo dice il riciclario. Immaginate il succo di frutta in tetrapack, scusate la parola è un po' difettosa. E quindi dicevo molte volte, presidente, queste battute servono appunto a così, a farci, a crescere meglio accanto alla differenziata. Beh sì, una campagna pubblicitaria insieme a Inchiostro di Puglia e a Riciclario che ci consente anche di mettere in campo tutti i nostri mezzi, come quello dell'app, che quindi i cittadini nel momento in cui hanno delle difficoltà sul corretto conferimento del rifiuto avranno la possibilità, utilizzando il riciclario, di comprendere nel loro quartiere dove e come riciclare. Quindi diciamo così, l'utilizzo di questo frasario per insomma aiutarci. La battuta dialettale, vediamo infatti sulla bacheca presidenziale che abbiamo di fronte a noi, possiamo farlo proprio in presa diretta. Presidente, abbiamo tutta una serie di espressioni, per esempio, non misca, non misca, squercelo con le cuffave, abbiamo sentito in dialetto, non mischiare mai le scorze con le fave ed è un'espressione significativa che mira appunto alla differenziata che differenzia appunto i rifiuti. Assolutamente sì, ma anche ne abbiamo altre come nessuno nasce in barate. Quindi questo ci fa capire come il processo di crescita per quanto riguarda la differenziata non è semplice, però un po' alla volta si impara a distinguere, no? A differenziare. Assolutamente, diciamo, no? Il frasario come questo ci sparte ave la media parte e anche a sottolineare come... Ci sparta ave la media parte, le origini sanmarzanessi del Presidente non rendono. Allora mi sostituisco nel dialetto tarantino. Grazie direttore. Ecco, a sottolineare cosa? Che insomma nessuno sa da solo come funziona la raccolta differenziata, quindi non è un problema chiedere, avere l'ausilio dei nostri volontari e anche quello che insomma con la corretta raccolta differenziata si potrà avere anche una riduzione della Tari. Soprattutto queste espressioni sono simpatiche perché assolvono una duplice finalità, una primaria ovviamente che con lo scherzo, anche come si fa non nella proprio secondo i dettami della didattica, con lo scherzo, con la battuta, certe espressioni magari entrano meglio nella testa e poi diciamocelo tutto come finalità secondaria. Un po' il nostro vernacolo, il nostro dialetto, così considerarlo, valorizzarlo non fa male. Assolutamente sì e come diceva bene assolve soprattutto la possibilità di raggiungere quanta più ampia popolazione insomma su questo tema particolarmente complesso. Come dire, chi non lo capisce in italiano, in dialetto lo capirà meglio. Assolutamente sì e noi l'ambizione che abbiamo è di rendere sempre Taranto una città del futuro. Grazie a tutti.